Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna troviamo traffico rallentato tra Calenzano e il BV A1 variante e verso Roma Coda tra il BV A1 variante e Badia. Segnalate core anche tra Monte San Savino e Valdichiana. Coda in uscita Valdichiana in entrambe le direzioni per traffico intenso. Spostandoci in A12 alla barriera Rosignano si è formata una coda in uscita in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze riduzione di carreggiati in entrambe le direzioni per la voli tra Tavarnelle e San Donato. Al via i cantieri a Firenze della nuova variante della tramvia tratta San Marco che riguardano Piazza San Marco, Viale Lavagnini, Largo Martiri delle Foibe e Viale Milton. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!